Benvenuta! Buonasera, buonasera a tutti, grazie! Bene, sotto la pioggia! Vipona bagnata, vipona fortunata! Esatto! Allora sai che ti dico, puoi chiudere l'ombrello e fare il tuo egresso nella casa, vai! Sì, grazie, ciao! Anzi, brava! Avanti! Infatti, avanti! I foni, se suonano, andate alla porta, no? E' Charlie! E' Charlie! Anzi, di ritorno! Non me lo aspettavo, lo sai! Buonasera! Wow, la Milena! Ciao, ci aspettavamo Charlie! Ci aspettavamo Charlie! Che bello vederti! Sì, stavamo Charlie! Sei con noi? Sì! Sei dimagrito, Charlie! A me la piacere! Ciao, che bello! Edoardo, piacere! Un nuovo acquisto! Ciao! Ciao, Charlie! Ciao, Charlie! Ciao!